ciao a tutti da Davide di audio costruzioni questo è un po un video di presentazione per chi non mi conosce e un video di dimostrazione invece per chi mi conosce dunque partiamo da circa 15 anni fa quando ho iniziato così per scherzo a costruire dei diffusori fare qualcosa così dopo per scherzo ho iniziato anche il sito internet e sono partito con la vendita di alcuni cavi e accessori vi discorrendo e alla fine mi ritrovo oggi a avere un negozio direi spero ben fornito e un punto di riferimento online per tutti gli appassionati ora vi faccio vedere il negozio più che altro a parte il negozio il mio è un grosso impegno di divulgazione delle informazioni che ho che ogni giorno diciamo acquisisco ecco e cerco sia con i video che con il sito di mettere a disposizione di tutti la diciamo il mio sapere tra parentesi niente questa è la sala dove le persone vengono ad ascoltare alcune volte a vedere provare i prodotti stamattina abbiamo spallato io e mio figlio una coppia di Sonus Faber le vennero 2.5 e vedete qua le provo con svariati apparecchi all'occorrenza face macintosh valvolari cinesi vedete qua c'è un po di tutto un po da roba molto costosa a roba anche molto economica sono appassionato del vintage mi piace molto trattare l'usato una certa maniera mi piace la roba cinese perché per me ha un rapporto qualità prezzo molto molto buono vedete qua abbiamo un esempio di due kain l'A88 e l'A100 tratto cavi vedete qua c'è tutta la serie di cavi sul pronto ma li costruisco anche in base alle esigenze metratura monowiring bwiring chi più ne ha chi ne mette insomma capi d'alimentazione un po di tutti i tipi sia quelli che costruisco io tipo gli sb3 oppure anche i foodtech e le varie marche insomma vi faccio vedere un po anche il rimanente del showroom ecco vedete questa è un sezione dove tengo soprattutto il diffusore con i cavi trova a volte nuova a volte usata ecco qua adesso vi faccio vedere anche un po una particolarità perché era nata come officina meccanica praticamente questa e troviamo lì è tutta ancora il reparto metalli e reparto taglio con la sega nastro e quant'altro e vedete invece la il reparto magazzino e anche imballaggio e spedizione qui metto alcuni diffusori o apparecchiature che diciamo sono in attesa di essere fotografate e archiviate per così dire ecco vedete sempre un'altra sezione di magazzino di roba usata e barra nuova per esempio adesso qua c'è un macintosh un 452 nuovo da consegnare e e altre cose queste un'arma al carbon da portare in riparazione questa roba usata qua abbiamo alcuni questi qua tipo sono i riduttori di tensione da 220 a 110 insomma un po di tutto un po invece lì dove sta inquadrando adesso entriamo un po nella sezione cavi sciolti e lì dove io raggruppo tutte tutta la cavetteria che sia summer cable van den hool monster cable insomma alcune marche e poi dopo avviene la costruzione dei cavi allora vedete questo è un reparto un po diciamo dove si fa abbastanza sporcizia no? qua ho le sabbiatrici le due sabbiatrici una diciamo a pallini di vetro e l'altra per sgrossare e qua uso vabbè questo è il lapidello che non uso praticamente più c'è tutta la sezione verniciatura ok in questo caso sto facendo per esempio due ripiani diciamo due supporti per gira dischi che sto facendo numero 20 dopo avverrà la verniciatura eee Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sac di mia madre è dove ho messo anche qua i diffusori e apparecchiature varie. E beh, poverina mia madre la voleva tenere tutta bella per i suoi mobili antichi ma ci sono capitato un po' di stereo. Bene, il giro l'avete fatto, avete visto un po' di cosa si tratta così. Comunque ve lo riassumo, audiocostruzioni.com è il sito www.audiocostruzioni.com Qui potete trovare tante accessoristiche, cavi, connettori, cavi di alimentazione, tratto tante marche, dalle più famose alle meno, Macintosh, Marans, Tannoy, Swabber, ProAC, AcuFace, insomma tante cose. Tratto molto usato, quindi se avete interesse sull'usato, sul vintage così, faccio anche permute, pagamenti rateali, insomma tantissime cose. Voi chiedete e vi sarà dato. Un saluto da Davide di Audiocostruzioni.